La tua voce è infantile, puerile, incerta, cantilenante. Devo aggiungere altro? Va bene che sei giovane, per carità, ma la stoffa si vede subito e tu per me non ce l'hai. Che dici? Che è coerente con quello che ha detto la prima puntata? Basker vuol dire che è una cantante di strada, capito? Ok, ok. Lei sicuramente ha una voce bellissima, l'ho sentita anch'io in puntata. Non so, è stata bella diretta. No, più che altro mi ha fatto morire che ne ha detto la famiglia, però adesso sei salvo. Sì, sì, è tipo una minaccia. No, più che altro mi ha detto la famiglia. Grazie a tutti.